buonasera buonasera prego si accomodi grazie bene cosa la porta qui a ponte news guardi io ho una nuova attività e vorrei pubblicizzarla allora nel posto giusto prego mi segua ok video spot professionali in 4k per la tua attività a prezzi vantaggiosi avrai visibilità su ponte news e potrai acquistare i tuoi video spot pubblicizziamo qualsiasi tua attività il nostro motto creatività professionalità e produzioni di grande qualità tutto a basso prezzo contattaci allo 0131 428105 e raggiungici in via genova 8 ponte curone un saluto da ponte news nella giornata di mercoledì 24 novembre è avvenuta a novi ligure la presentazione del progetto laboratorio di scrittura creativa finalizzato alla realizzazione di un libretto a cura di lorenzo ogero in questo libretto si racconta della fiera di santa caterina una delle fiere più importanti a novi ligure servizio che cosa dire ecco perché siamo qua siamo qua per un fatto semplice per presentare quello che chiamiamo il livello della fiera di santa caterina che è il prodotto finale di un laboratorio di scrittura creativa che è iniziato e si confuso nel 2019 sapere nell'anno del signore 2019 la fiera di santa caterina si è fermata tra una riga e l'altra in ricordi su carta è tardo pomeriggio strani lampi forano la foschia autunnale c'è un gran brusio che fa da sottofondo ai rumori della città musica sparata segna ritmo di battiti veloci la fiera di santa caterina è stata raccontata tra le pagine di un giornalino un progetto a cura di lorenzo ogero presentato durante l'incontro dall'assessora alla cultura andrea assisti un mix di ricordi condivisi con i presenti il giorno mercoledì 24 novembre i ricordi non sono stati raccontati solo a parole ma anche con foto e disegni creatività a 360 gradi un'iniziativa che ha coinvolto anche i più piccoli che ammagliati dalla fiera partorita da oltre 400 anni hanno raffigurato momenti di gioia durante la festa commercianti ed artigiani uniti per far annaffiare un bellissimo fiore novi ligure la fiera di santa caterina tra le migliori sorgenti ed ora passiamo voghera truffe ai danni dei cittadini gli oggetti gli alimenti questo è quello che accade a voghera e nonostante le varie segnalazioni nessuno ancora ha fatto nulla si tratta di una coppia un uomo e una donna che si aggira per le vie di voghera vendendo prodotti non di origine controllata servizio siamo qui a voghera per raccontarvi un fatto che più volte è stato segnalato ma nessuno ha fatto nulla si parla di una coppia che in giro vende alimenti e in cambio chiede soldi ovviamente gli alimenti non sono controllati nei giorni scorsi sono stati segnalati casi di truffe per le vie di voghera alimenti barattati con del denaro senza però che gli acquirenti ne conoscessero la provenienza gli autori del raggiro tuttora a piede libero un uomo ed una donna oltre a fermare i passanti si dilettano nel porta a porta perché scegliere i prodotti di origine controllata? dovrebbero scegliere i prodotti di origine controllata perché intanto prima cosa è la provenienza si vede almeno ad esempio nel mio caso è una macelleria ne prendiamo la carne in Piemonte e le persone che vengono a comprare da me sanno da dove proviene la carne ma vale per tutto questo quindi per evitare di essere truffati è molto importante vedere l'origine degli alimenti sebbene sia scontato quanto affermato alcuni acquirenti ghiotti probabilmente dal prezzo stracciato dei prodotti sono caduti nel tranello allora i cittadini dovrebbero scegliere sicuramente i prodotti controllati con una filiera controllata perché innanzitutto per motivi di salute che sono sicuramente appunto controllati e testati e tutto e quindi sono sicuramente più sicuri 25 di novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne e nonostante questo ci sono stati casi di violenza gratuita tra l'altro sotto gli occhi di tutti ai danni delle donne ed ecco che noi vogliamo ribadire un concetto fondamentale il rispetto non ci deve essere solo nei confronti degli uomini ma anche delle donne per una questione di parità in quanto esseri umani e essere viventi ed ecco che il comune di Boghera ha disposto delle iniziative per il 25 di novembre per ricordare la vicinanza alle donne vittime di violenza tra l'altro ricordiamo il 1522 da poter contattare 24 ore su 24 attivo in caso di bisogno Servizio Oggi è il 25 novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne nata e istituita nel 1999 come amministrazione ci impegniamo e rinnoviamo l'impegno per tenere alta l'attenzione su una tematica che costituisce una piega sociale una tematica che deve essere sempre oggetto di grande attenzione quindi ci siamo proposti per questa giornata diverse iniziative a partire dalle scuole proprio per creare già dalle fasce più giovani di età una sensibilizzazione per evitare che nascono ulteriori figure di maltrattanti quindi abbiamo invitato le scuole a creare degli elaborati che sono stati esposti anche nelle nostre vetrine della biblioteca proprio per sensibilizzare perché la prevenzione su un fenomeno di questo tipo è veramente importante ancora troppe poche donne denunciano episodi di violenza lo vediamo negli episodi quotidiani di cronaca che purtroppo episodi di violenza posti in essere da partner o ex partner poi purtroppo sfociano in femminicidi quello che dobbiamo far capire alle donne che devono rivolgersi ai servizi che esistono, che sono in essere per cercare tutela perché gli strumenti per far fronte a questi episodi ci sono fondamentale la rete tra istituzioni, associazioni noi abbiamo la fortuna sul nostro territorio di avere l'associazione Chiara che ormai è centro antiviolenza dicevo che la rete è veramente fondamentale e insieme alle forze dell'ordine l'obiettivo è proprio cercare di portare avanti questa lotta contro la violenza di genere che sappiamo che è essere una violenza psicologica, fisica e anche a volte economica legata poi anche alla violenza assistita purtroppo di cui sono vittime anche i minori e i bambini e i figli abbiamo rinnovato come comune la firma e l'adesione al protocollo della rete interistituzionale di cui è capofila il comune di Pavia che è stata ampliata proprio per ampliare la rete facciamo parte di questa rete noi come comune, comune di Vigevano dicevo il comune di Pavia come capofila altri comune della provincia, le forze dell'ordine e i tre centri antiviolenza della provincia perché assolutamente è importante uniti a prescindere dalle differenze di logiche andare verso la direzione della lotta contro la violenza come amministrazione presenti perché vogliamo dare tutto il nostro contributo per sconfiggere questo fenomeno della violenza di genere noi diamo tutta la collaborazione anche alle associazioni che operano sul territorio in particolare l'associazione Chiara e infatti volevo chiamare qua con noi la signora Boffelli eccola che la quale ci potrà dare anche delle maggiori e indicazioni di quelli che sono i numeri da chiamare perché tante sono le violenze che le donne subiscono non solo fisiche ma anche psicologiche importantissimo quindi diventa il tema dell'ascolto ed è per questo che l'associazione Chiara esiste ed ha un aiuto concreto a tutte le donne che hanno bisogno di parlare, di essere ascoltate e di essere aiutate passo quindi la parola volentieri allora io sono la presidente del centro antiviolenza dell'associazione Chiara che si occupa di Voghera e dell'oltrepopavese ecco il numero più importante da ricordare che è quello a livello nazionale è il 1522 il 1522 è il numero dicevo a livello nazionale cui possono fare riferimento alle donne perché è un numero gratuito e da questo numero potranno poi contattare i nostri servizi o i servizi dei centri antiviolenza più vicini alla donna per ora è tutto vi ringraziamo per essere stati con noi e alla prossima arrivederci grazie a tutti grazie a tutti